Si torna al centro sportivo la coccinella ma si torna con il campionato, si torna con lo scontro tra la coccinella di mister Carlo Ponte Corvi e la Roma. Calcio femminile dopo il bel match di sette giorni fa, Roma dicevamo da sinistra verso destra, giustisce proprio il primo pallone che lo va a toccare, Santilla all'indietro per Bartolini. Cata anche dal disimpegno con Santilla, Di Lorenzo, Aiello prova il sinistro ma è più un passaggio, più un assist. Aiello, sono loro adesso a gestire questo pallone che perde proprio Aiello, Pasquali prova dalla seconda conclusione e Maglione ci mette le mani, sale proprio tutta la linea difensiva dalla Roma con Pasquali che va a svirgolare Proi, prova anche Bartolini, Di Lorenzo fa su il pallone, lo dà all'indietro pericolosamente, Aiello gli sfugge la possibilità, va a colpire Pasquali. Verso Pasquali, costretto ad andare il pallone all'indietro, palla tra le braccia di Maglione sulla fiondata, debolmente, tocca a Cioccia, poi lancio lungo da parte di Della Ciana con il tacco Pasquali, doppio legno. Perna ancora a destra, c'è Aiello, subito pallone alta e ci prova Mastro Francesco però poi nel secondo tentativo. Cioccia all'indietro, c'è Bartolini, si accentra, carica il tiro verso Pasquali che prova anche a girarsi, c'è Maglione che però non capitola. Perna, Aiello si avvita, se ne va, prova anche la fiondata. C'è però Della Ciana a rispondere Fabiana Pasquali, sempre pericolosa sulle sue conclusioni. Prova adesso direttamente, con i pugni Maglione, Cioccia in mezzo, pallone che scivola a Maglione e c'è Di Clavio, mette il pallone in fondo al sacco per il vantaggio della Roma. Con Bocci e Cioccia, tocca di Clavio, perna, però ferma la Roma, apre la possibilità per Miccio! Il gol del pareggio della Coccinella, sembrava debole debole il tiro ma intanto quel tanto necessario per il gol del pareggio con Miccio. Della Ciana, lo stop di Pasquali, poi lo svirgola, il pallone ancora, arriva dalla conclusione Santilli, oltre la propria metà campo. Bocci, c'è Pasquali, va anche andare a calciare, si gira, fa quello che vuole e deposita il pallone nell'angolino opposto per il vantaggio della Roma. Poi D'Alessio ancora a sinistra, si libera di Santilli, pallone messo in mezzo per Miccio che non va a colpire, poi D'Alessio. Adesso in questa situazione, pallone allontanato, Aiello, D'Alessio, Mastro Francesco. Possibilità per Di Lorenzo, scivola nel tentativo di colpire a Reggio, Mastro Francesco che riceve D'Alessio, Aiello, tutta quanta la Coccinella che attacca Santilli che parte. Arriva il triplice fischio finale, la Roma espugna il centro sportivo, la Coccinella, battendo la formazione di Carlo Pontecorvi per due reti a uno. Le marcature con Di Clavio per l'1-0 della Roma, il pareggio di Miccio nel primo tempo al riposo. Le squadre sull'1-1 decide il gol di Fabiana Pasquali, la vittoria della Roma per 2-1 sulla Coccinella.